A Orbino le aziende e gli studenti si incontrano in occasione dei Career Day, un'opportunità per incrociare la domanda e l'offerta del mondo del lavoro, presentando a studenti e studentesse aziende del territorio e del panorama nazionale. Per l'occasione si è svolta anche la tavola rotonda con i cosiddetti laureati capolavoro. Agevoliamo il mondo imprenditoriale con l'incontro di un numero di studenti elevato che hanno profili di formazione diversi. Uno pensa sempre che siano avvantaggiati i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in cose scienze politiche. Ma no, dobbiamo pensare che il mondo del lavoro di oggi richiede figure che siano capaci di sviluppare questa formazione che hanno avuto di tipo, per alcuni aspetti, interdisciplinare. Perché quello che dico sempre, lo sottolineo, la realtà è sempre più complessa per capirla, interpretarla e anche cogliere le opportunità, bisogna avere gli strumenti che siano aggiornati e per far questo bisogna sapere sicuramente di economia, ma bisogna sapere anche di comunicazione, bisogna sapere di tecnologia. E questo credo che sia importante perché permetta proprio agli studenti di avere questo incontro. questo incontro e anche per le imprese perché è molto più facile venire qua un giorno, due giorni se consideriamo i due eventi, quello primaverile, quello autunnale, invece che di andare ogni singolo candidato che manda il suo curriculum. Quindi ci piace molto e penso che sia molto bello. Per noi questo è l'appuntamento più importante che ci permette di far dialogare il mondo del lavoro con i nostri giovani, che è poi la cosa più importante. Per favorire questo dialogo noi mettiamo in campo tutta una serie di iniziative, compresa naturalmente la cerimonia di oggi, la premiazione dei nostri laureati capolavoro che rappresentano per noi un fiore all'occhiello, la loro carriera, il loro impegno, la loro passione. Non solo hanno permesso loro di raggiungere grandi traguardi, ma consentono anche di portare in giro per l'Italia e il mondo quello che è il nome di Urbino. E quindi per noi non può che essere un'occasione di grande piacere, oltre che essere un grande esempio per i nostri giovani. Sono le aziende che partecipano e che portano sul piatto quelle che sono le loro offerte di lavoro e cercano il dialogo con i nostri giovani, che arriveranno preparatissimi, perché nel calendario di questo Career Day abbiamo messo diverse iniziative, tutte mirate a orientare al meglio i nostri giovani e a prepararli a questo incontro.